Virta Merlino, invece tu intervisti Beatrice Venezzi che dice chiamatemi direttore. Sì, e tra l'altro ne parla anche con la Voldrini dal mio libro, perché lei dice una cosa molto interessante a mio parere. Lei dice non dobbiamo fissare sulle desinenze, dobbiamo pensare alla radice. Qual è la radice? Che direttore d'orchestra donne praticamente sono delle mosche bianche, non esistono. E io andando su quel palco, dentro un ruolo maschile e vestendolo del mio essere donna, il modo in cui mi vesto, il modo in cui dirigo, il modo in cui parlo, in qualche modo ho dimostrato che quel lavoro può essere un lavoro per donne. Perché è importante quel lavoro, dice Beatrice? Perché è un lavoro di pura leadership. Cioè, devi tenere a bada molti, anche uomini, e devi essere rispettata e, come dire, creduta, se no non lo fanno. Questo non lo metto in dubbio, sono d'accordo. Il fatto è che la nostra è una lingua neolatina, c'è la declinazione al maschile e al femminile. La crusca ci dice che ogni ruolo, ogni lavoro deve essere declinato sulla persona che lo svolge. E quindi io non mi sono inventata niente, io mi sono affidata alla crusca. Ci critichiamo tra donne, perché una delle cose che io dico qui, io penso che dobbiamo essere un po' più brave, avere meno distinguo tra di noi. Lui uomini lo sanno fare, quando hanno un obiettivo comune, mettono da parte tutto. No, ma è la grammatica però, Mirta, è la grammatica, è la grammatica lo dice, la grammatica, la crusca ti dice la regola. Allora, andiamo da Marianna Prima che tanto conosce il greco, vediamo se la crusca ha ragione. E poi la professoressa chiede un flash però veramente. Il linguaggio secondo me ci dice molto di più di quello che abbiamo intorno quando la parola non c'è. Non abbiamo una parola che definisca una donna che non fa figli, se non un termine medico, un lipara che non dice niente. Non abbiamo una parola che indichi una madre che lo perde un figlio. E secondo me le parole che non esistono ci dicono molto di più delle desinenze. Quello che non capiamo. Professoressa Fornero, le chiedo un flash davvero. Guardi, io per molto tempo ho preferito il termine professore perché sembrava, professoressa lo dicevano in maniera un po' sprezzante. Vabbè, sì, sarà anche una professoressa. Mentre il professore era sempre qualcuno molto considerato, insomma con assistenti intorno, cose di questo genere. Mentre noi donne dovevamo fare tutto spesso. E questo però adesso, anche io ho fatto fatica ad accettare ministra. Perché mi sembrava che ministro potesse ricomprendere tutti. Basta, io sono un ministro della Repubblica. Elsa Fornero, un ministro della Repubblica. Però adesso mi sono abituata a ministra. Si impara. Allora, Marianna Aprile, in balia. Laura Boldrini, questo.